La Cava auguri intanto per il nuovo ruolo, quali priorità e come si approccia a questa sfida stimolante? Mi approccio a questa sfida stimolante, quindi positivamente. Le priorità ancora non conosco nulla, nel senso che mi dovrò poi confrontare con il dirigente e con la stessa riuscente per capire come approcciarsi al tutto. Speriamo bene, la squadra è bella, siamo tutti carichi e speriamo tutto bene. Speriamo bene, la squadra è bella, siamo tutti carichi e speriamo tutto bene. Speriamo bene, la squadra è bella, siamo tutti carichi e speriamo tutto bene. Speriamo bene, la squadra è bella, siamo tutti carichi e speriamo tutto bene.